Contro il Pontisola ho segnato un gol molto bello in una partita ben giocata dalla squadra. Realizzare una rete spettacolare è stato il modo migliore per tornare da un piccolo infortunio. Cercherò ovviamente di ripetermi. Le cose vanno per il meglio. Sono davvero felice di questo primo mese rosanero. Abbiamo un'ottima squadra e spero davvero che ci toglieremo tante soddisfazioni durante la stagione. Tutti i giocatori del Palermo sono di qualità. Non mi va di fare nomi perché l'unità della squadra deve essere sempre la nostra forza. Ovviamente ci sono comunque delle individualità che sanno diventare fondamentali sul campo nel corso di una partita, ma dobbiamo vincere tutti insieme. Mi trovo bene in tutte le posizioni nelle quali mi ha schierato Iachini. In attacco posso ricoprire tutti i ruoli, quindi per me è fondamentale solo fornire prestazioni convincenti ed essere concentrato. Giocare tre quarti sto punta per me è indifferente. Mi trovo bene con Iachini. Ha buone idee tatti che sto cercando di rendere al meglio all'interno delle sue indicazioni, cercando di ripeterle sul campo. In questo senso è fondamentale essere sempre concentrati. Il campionato italiano è migliore di quelli nei quali ho giocato sinora. È normale dunque che gli allenamenti siano più duri, ma questo è un aspetto positivo che ti spinge sempre a migliorarti. Per la crescita personale questo è fondamentale, in particolare per i giocatori giovani. È chiaro che attendo con ansia le prime partite ufficiali. Ho sempre sognato di giocare in Serie A e sono felice di averne la possibilità. Non vedo l'ora di poter scendere in campo. Grazie a tutti.